Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Il Parlamento in seduta comune è riuscito a leggere ieri solo 9 dei 10 componenti laici da mandare al Consiglio Superiore della Magistratura. Per decidere il decimo torneranno a riunirsi domani. Che cosa è successo? È abbastanza complesso da raccontare, ma insomma più o meno questa è la storia. Fratelli d'Italia aveva indicato quattro candidati da mandare all'organo di autogoverno della magistratura. Tre donne ed un uomo. Quest'uomo era Giuseppe Valentino, noto penalista calabrese, già sottosegretario alla giustizia e senatore della Repubblica. Durante la prima chiama, cioè durante la prima votazione, il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che non lo avrebbe votato perché risultava indagato in un processo di indrangheta, noto come processo gota. Fratelli d'Italia si è resa conto, probabilmente avrebbe avuto i numeri, ma si è resa conto dell'opportunità di rinunciare a questa candidatura anche perché il tutto sarebbe avvenuto all'indomani della cattura del boss Matteo Messina Denaro, giornata nella quale anche la premier Giorgia Meloni si è impegnata ad una lotta senza quartiere contro la criminalità organizzata. Pertanto, hanno spiegato alcuni esponenti del suo partito, non sarebbe sembrato opportuno candidare al Consiglio Superiore della magistratura, magari poi per farlo diventare anche vicepresidente, un esponente del partito che però appunto fosse indagato per un processo di indrangheta, anche se lui ovviamente dichiara di essere innocente e parla solo di fango contro di lui. Comunque, Valentino ha rinunciato alla sua candidatura e al suo posto è stato indicato il nome di Felice Giuffré, un professore di diritto che riceve il gradimento di maggioranza opposizione. Quindi domani si tornerà a votare. Ma a raccontarci che cosa è successo esattamente ieri è un deputato di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Beh, ma sicuramente come ha detto noi abbiamo ricercato subito quella che è una votazione per avere nell'interezza subito il plenum, quindi il CSM, andare a ricostituirlo. Abbiamo però trovato di fronte anche la grande responsabilità e sensibilità di Valentino che per evitare che si attivasse, come è stato fatto purtroppo, una macchina del fango nei suoi confronti e anche nei confronti del partito e quindi si speculasse su qualcosa che tra l'altro, come lui stesso ha detto, sta cercando anche di comprendere di cosa stiamo parlando e quindi di cosa si parla, per evitare ciò, quindi la sua grande onestà e la sua grande capacità anche quindi di essere persona dello Stato e delle istituzioni, ha ritirato la candidatura e quindi nel ritirare la sua candidatura, quindi lo ringraziamo ancora una volta quindi per aver dimostrato grande saggezza ma quindi veramente rispetto delle istituzioni, a questo punto il partito nostro e quindi di Giorgio Meloni in primis ha ritrovato in Felice Giuffrè un'altra persona stimabile e quindi un'altra persona capace con i titoli per poter rappresentare quindi all'interno del CSM il nostro partito e quindi domani andrà in votazione il nome di Felice Giuffrè e quindi andremo a costituire nell'interezza il CSM. Il vicepresidente della Camera ieri sera in chiusura di serata dopo aver elencato i nomi degli altri nove componenti che invece sono riusciti a entrare come laici del CSM aveva detto che il Parlamento in seduta comune si sarebbe riconvocato martedì prossimo, invece poi in mattinata è arrivata questa accelerazione cioè la notizia che invece tornerete a convocarvi domani. Lei sa per quale motivo c'è stata questa accelerazione? Sicuramente perché comunque vogliamo che il CSM venga subito ricostituito e quindi noi vogliamo che le istituzioni subito lavorino al meglio e quindi così si va spediti come il governo Malone sta andando spediti in questo periodo. Ma a raccontarci un po' come sono andate le cose è anche Anna Rossomando vicepresidente del Senato e esponente del Partito Democratico. Lei è stata quella che ha seguito la vicenda del Consiglio Superiore della Magistratura per conto del partito. Siamo soddisfatti e giudichiamo positivamente il fatto di aver pressoché completato l'elezione dei componenti lacidi del CSM da troppo tempo in regime di proroga. Il nuovo CSM sarà chiamato una vera e propria fase costituente. Con l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario a cui ricordo mancano ancora i decreti attuativi che continuiamo a chiedere al governo di scrivere con la massima urgenza, con l'entrata in vigore di questa riforma il nuovo CSM dovrà accompagnare il necessario processo di rigenerazione cui è chiamata la magistratura. Noi del Partito Democratico abbiamo dato un contributo importante a questa riforma perché fosse vera e andasse comunque dentro i principi che sono stabiliti dalla Costituzione. Il Partito Democratico ha proposto un nome, quello del professor Roberto Romboli di grande competenza e autorevolezza e tra l'altro il professor Roberto Romboli è risultato il più votato tra i membri eletti. Noi abbiamo sentito nel proporre questo nome tutta la responsabilità della fase e del fatto che andiamo a comporre un organo di rilievo costituzionale. Avremmo già il plenum oggi se la maggioranza non avesse proposto un nome che è stata costretta a ritirare precipitosamente in fretta e furia. Comunque bene che già domani sia previsto il voto per il completamento del plenum con il decimo componente anche perché la settimana prossima si terrà un primo appuntamento istituzionale importante e cioè l'inaugurazione dell'anno giudiziario.